Buongiorno a tutti, sono Attilio Cantoni, collaboro con la 4F. Questo è un progetto di una moto che abbiamo realizzato elettrica, da una base di una Honda CRF 250. Abbiamo sostituito il motore termico e abbiamo messo un motore elettrico. L'autonomia di questa moto è di 120 km, velocità massima che può raggiungere sono 85 km all'ora. La particolarità di questa moto è che può circolare in tutte le zone, anche private, senza farsi sentire perché è silenziosa. Questo è il rumore che fa la moto. La cosa particolare anche che ha questa moto è l'autonomia che per oggi sul mercato è molto importante perché la concorrenza ha raggiunto dei chilometri circa 50, con questa moto riesco a fare 120 km. Questa moto è stata presentata anche all'EICMA, nello stand del Motoaiuto, che è un'associazione di motociclisti che hanno collaborato insieme alla Protezione Civile e Radio Amatori nel terremoto di Amatrice. È un'associazione no profit, è un'associazione che ha dato una mano a portare medicinali e andare a trovare quei paesi che erano isolati per vedere se avevano bisogno di aiuto.